Se hai cliccato questo video probabilmente sei alla ricerca di consigli per migliorare le tue fotografie e sei nel posto giusto perché nel corso di questo video andremo a vedere una serie di trucchi ed espedienti che possiamo utilizzare per portarci a casa delle fotografie quantomeno decorose. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni e molti dei trucchi o dei segreti che andrò a svelarvi nel video di oggi li ho imparati da solo sulla mia pelle sbagliando per cui guardando questo video state risparmiando anni di tempo perché invece di metterci tutto il tempo che ci ho messo io ci metterete solamente il tempo della durata di questo video. Dal momento che vi sto facendo risparmiare un sacco di tempo mi permetto di ricordarvi di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto. Ogni contenuto che guarderete risparmierete forse settimane o addirittura mesi di tempo cercando di capire qualcosa che io cerco di snocciolarvi in contenuti di 10 minuti o poco più. Ma partiamo subito col primo trucco o consiglio ragazzi cerchiamo di curare il più possibile la nostra composizione. La composizione significa la disposizione dei nostri soggetti all'interno dello spazio che ci è dato riprendere o fotografare quindi vedete per esempio che io mi sono collocato al centro e è una scelta ben precisa non mi sono messo a tre quarti non mi sono messo mezzo fuori mi sono messo al centro è una scelta ben precisa molto studiata e molto ponderata. Il microfono è più da un lato possibile perché francamente rompe le scatole quindi io non lo voglio qui il microfono e l'abbiamo posizionato qua quella lucetta è lì per un motivo ben preciso insomma tutta la composizione è ampiamente studiata. Ora io non pretendo che in qualsiasi fotografia si vada a fare un lavoro di questo tipo perché spesso non è possibile bisogna anche cogliere l'attimo ma anche nel cogliere l'attimo cerchiamo sempre di buttare un occhio a quali sono anche gli elementi che circondano il nostro soggetto in maniera tale da riuscire magari a cogliere dei sottotesti delle storie che possiamo andare a introdurre nelle nostre immagini e che sicuramente non mancheranno di arricchirle. Secondo consiglio guardate che questo è molto importante usate quello che avete questo che cosa significa nel momento in cui avete un banalissimo smartphone cominciate con quello a fare fotografia non arrovellatevi pensando a quello che potreste comprare a quello che potreste avere cominciate con quello che avete ricordatevi sempre che nella maggior parte dei casi quello che avete è sufficiente per catturare l'immagine che avete in mente ci sono dei casi in cui bisogna per forza fare degli upgrade e vi faccio un esempio io con questo non posso fotografare la luna piena fuori dalla mia finestra viene una porcheria io con questo non posso fare una cresima una comunione o una competizione sportiva perché non ci riesco non mi viene magari ci sono fotografi da smartphone più bravi di me che ci riescono sono curioso di saperlo quindi fatemelo sapere in un commento però francamente io ho bisogno di fare un upgrade da questo ho bisogno di passare almeno a una fotocamera professionale esistono dei casi in cui questo step è inevitabile esistono però moltissimi casi in cui invece riusciamo a fare quasi tutto con quello che abbiamo già molti di noi non hanno uno smartphone ma partono già con una fotocamera magari una entry level ebbene il mio consiglio è di sfruttare fino allo sfinimento quello che avete prima di comprare qualcos'altro questo per due motivi il primo è che magari scoprite che riuscite a fare esattamente quello che volete con la strumentazione che avete senza bisogno di comprare nient'altro il secondo motivo è che se fate a modo mio nel momento in cui la vostra strumentazione sarà arrivata al suo limite voi l'avrete portata al suo limite quindi comprerete qualcos'altro a quel punto sarete pronti per quel qualcos'altro altrimenti non farete altro che comprare un qualcosa senza nemmeno sapere perché senza nemmeno comprendere come mai state passando a una strumentazione di tipo diverso e questo significa buttare un sacco di soldi terzo consiglio impariamo a usare le impostazioni e i parametri della nostra macchina questo che cosa significa banalmente vedo e sento un sacco di persone che mi chiedono mi dicono cose e molti mi dicono per esempio ma che cosa mi conviene fare posso scattare in priorità di tempi questa cosa oppure meglio usare priorità di diaframmi e io dentro di me penso ma una gara di moto una gara di formula 1 in priorità di diaframmi secondo me non è una grande idea lì io mi focalizzerei sui tempi piuttosto perché mi fanno queste domande perché non hanno capito i parametri è molto importante capire i parametri avere nella testa quello che fa ogni singolo parametro che cosa fanno i tempi ci permettono di decidere quanto lunga è l'azione che stiamo catturando che cosa fanno i diaframmi ci permettono di decidere quanta profondità di campo quanta porzione della nostra scena è a fuoco che cosa fanno gli iso praticamente niente perché gli iso sono soltanto il guadagno elettronico ormai sui nostri sensori però hanno degli effetti comunque che dobbiamo conoscere quindi avremo una gestione del rumore diversa e una gestione della gamma dinamica diversa a seconda del valore viso che impostiamo dobbiamo saperle tutte queste cose se no stiamo facendo le cose a caso ed è un attimo sbagliare qualcosa di irreparabile avere tutte le foto rovinate è molto importante conoscere i parametri e le impostazioni della nostra macchina anche perché ci sono delle impostazioni che sono dei veri e propri salvavita per esempio se stiamo facendo fotografia macro adesso avere la possibilità di fare focus stacking direttamente in macchina è letteralmente un salvavita ma dobbiamo sapere che c'è altrimenti non lo sappiamo e non lo utilizzeremo nemmeno mai quarto consiglio state molto molto attenti a non bruciare le alte luci questa è una cosa a cui io poi tengo particolarmente perché il mio percorso di studi è passato attraverso la storia dell'arte non ho studiato storia dell'arte però mi è piaciuta molto quando tu studi storia dell'arte ti rendi conto guardando i dipinti avete mai guardato dei dipinti la gioconda dai uno dei quadri più famosi del mondo c'è del bianco nella gioconda il pittore ha usato il bianco puro nella gioconda a me non sembra io non vedo e questo vale per la maggior parte dei dipinti che mi vengono in mente non c'è il bianco assoluto da nessuna parte o quasi da nessuna parte perché comunque è sempre mescolato con altri pigmenti questo che cosa significa se noi facciamo delle fotografie in cui abbiamo un sacco di aree stra bruciate ecco vedete questa lampadina qui probabilmente è un po bruciatina sì certo però è piccinina così io cerco di non avere grosse aree di highlights bruciati nelle mie composizioni nelle mie foto è una cosa che mi urta profondamente a volte può farmi gioco la sposa che entra in chiesa sta è bello che abbia l'arcata della della chiesa alle spalle con tutto bruciato quello ci sta certe volte va bene però in generale un cielo bruciato non è mai bello le nuvole se prive di dettagli non sono mai belli l'incarnato quei dettagli bruciati a me personalmente non piace diciamo che può essere una scelta artistica però se è una scelta artistica deve essere motivata e deve essere ragionata ci deve essere un motivo e dovete averlo fatto apposta non è un po venire per caso e poi di te no mi sentivo che mi sentivo così il cavolo ti è venuto sbagliato e me lo stai giustificando quindi facciamo attenzione a questa cosa occhio a non bruciare le alte luci paradossalmente io credo che sia meglio avere una perdita di dettaglio nelle ombre piuttosto che nelle alte luci perché è più vicino a come il nostro occhio vede è difficile che il nostro occhio percepisca una bruciatura nelle alte luci in una scena che stiamo guardando è più facile che il nostro occhio abbia una perdita di dettaglio nelle ombre più profonde piuttosto che nelle luci quindi questa è una cosa mia generale è una regola di dettata forse anche dal buon senso e da un po di esperienza poi ognuno può fare quello che vuole non è giusto quello che dico io però secondo me generalmente in una fotografia è più gradevole avere delle ombre profonde piuttosto che delle alte luci bruciate un altro consiglio molto importante che me la sento di dare qui è ragazzi ricordatevi che le fotografie si fanno con gli occhi la macchina fotografica la testa e i piedi sì i piedi sono una componente molto importante perché noi possiamo usarli i piedi mentre facciamo fotografia sapete e quindi non siamo costretti a stare sempre nello stesso punto ma possiamo andare in giro spostarci è una cosa che magari da quella posizione non funzionava magari è sufficiente fare dieci passi e improvvisamente la scena si apre e la fotografia funziona molto meglio ricordiamoci e ritorno al punto numero uno quello sulla composizione ricordiamoci che la composizione che si fa anche soprattutto spostandoci è uno dei modi che abbiamo per far interagire i nostri soggetti all'interno di uno spazio dato se io sposto il mio microfono e lo posiziono qui vedete che cambia completamente la scena e cambia in peggio quindi è meglio tenerlo qua sicuramente però il punto è che c'è dietro una scelta e io posso spostare gli oggetti o spostare me stesso e nella maggior parte dei casi in fotografia sposterò me stesso perché sono pochi i casi in cui io da fotografo vado in giro a toccare le cose a spostare tutto è molto più facile che sia io a spostarmi per avere una parallasse una traiettoria una composizione più gradevole quindi usiamo i nostri piedi sono uno strumento fotografico essenziale un altro consiglio che secondo me è essenziale impariamo a capire senza nemmeno bisogno di metterci lì a fare delle prove impariamo a capire quando serve un treppiede è facilissimo siamo di notte è un paesaggio notturno serve un treppiede siamo in una scena un interno buio serve un treppiede stiamo facendo una stellata stiamo facendo la via latte a serve un treppiede sono contesti in cui possiamo anche impararli a memoria non sono tantissimi impariamo quando serve un treppiede questo ci sarà molto utile perché nel momento in cui ci serve un treppiede sappiamo che dobbiamo portarlo ma soprattutto se ci capita di trovarci in un contesto da treppiede siamo senza sappiamo già che probabilmente non caveremo un ragno dal buco e quindi possiamo scegliere di non farla quella foto e di goderci la via latte a il paesaggio il tramonto quello che è perché sappiamo che è difficile riuscire a fare quel tipo di fotografia e potremo non avere voglia di sbatterci per arrivare magari a un risultato misero perché il treppiede non ce l'abbiamo prossimo consiglio idem dicasi per il flash o l'illuminazione supplementare non ha molta importanza in realtà io parlo di ho parlato di flash ma in realtà vale anche per un quarzetto vale anche per un led vale per qualunque cosa impariamo quando serve aggiungere della luce è più facile che sia un flash secondo me però impariamo quando serve aggiungere della luce impariamo a valutare la scena e a dire ok posso fare una fotografia in una cantina con con tutte le bottiglie con la luce spenta non c'è la luce siamo in una cantina in una galleria in una grotta in una miniera ok devo portarmi della luce supplementare se no non verrà mai questa è facile quella della miniera è facile è tutto buio è completamente oscurità pura quindi è ovvio che gli serve una luce ma ci sono tanti altri contesti volendo intermedi dove serve una luce e dove noi con l'esperienza possiamo arrivare a sapere che ci serve e ci servirà sempre se impariamo se memorizziamo tutte le volte in cui siamo stati in carenza di luce ci avrebbe fatto comodo una lucetta sapremo automaticamente che quello è un contesto dove serve introdurre una luce e magari nel frattempo l'avremo comprata ci saremo ricordati di portarla e quindi potremo tirarla fuori e utilizzarla per raggiungere il nostro obiettivo questo vi sembrerà banale ma come forse molti degli altri punti ragazzi ricordiamoci di pulire la strumentazione in particolare vabbè il sensore ha bisogno di una pulita ogni tanto e lo sappiamo ne abbiamo già parlato anche in tanti shorts vi ricordo anche di iscrivervi perché spesso io dico cose in più corollari risposte alle domande negli shorts per cui se vi iscrivete adesso non rischiate poi di perdervi queste appendici ai miei contenuti pulire il sensore ok ma quella è la cosa più estrema a cui possiamo arrivare ma ricordiamoci di pulire il corpo macchina di pulire le intercapedini con gli appositi strumenti e soprattutto di pulire le ottiche soprattutto il frontale delle ottiche non dico di smontare le ottiche e pulire l'interno perché quello magari è pulito se l'abbiamo sempre tenuto avvitato magari non è entrata polvere quello può essere sempre pulito ma il frontale è quello che si sporca più facilmente è quello che più facilmente ci porta ad avere la ditata al chicco di polvere la goccia d'acqua ricordiamoci di pulire spesso o comunque di fare caso se il frontale del nostro obiettivo è pulito è veramente un peccato rovinare delle fotografie per una mancata premura di aver fatto semplicemente un controllino sulla pulizia del frontale dell'obiettivo è veramente un peccato allo stesso modo io vi raccomando di utilizzare i filtri perché sì vi raccomando di usare i filtri a volte sono indispensabili io in questo momento sto usando un filtro nd se no questa scena non sarebbe possibile così come la vedete sto usando un filtro nd vi raccomando di usarli filtri ma prendeteli un po' bellini non dico di prendere i top di gamma non vi dico che dovete spendere 200 euro a filtro sarebbe bello se potessimo permetterci tutti quanti 200 euro a filtro io col cavolo che spendo 200 euro a filtro però una quarantina di euro per un filtro almeno una quarantina di euro spendiamoli perché filtri da 20 da 10 euro sì ci aiutano a capire cosa succederebbe se avessimo un filtro però stanno peggiorando di parecchio le nostre immagini quindi non usiamo roba troppo cheap davanti alle nostre ottiche magari abbiamo speso tanti soldi per la fotocamera tanti soldi per l'ottica poi gli mettiamo su un filtro da 20 euro anche questo è un peccato un'altra cosa che secondo me è abbastanza importante impariamo almeno un pochino di post produzione perché se noi facciamo delle fotografie vogliamo portarle al livello successivo lo sviluppo digitale è una cosa che ci permette di farlo attenzione ragazzi lo sviluppo digitale non è l'intelligenza artificiale non sto dicendo che dovete buttare tutto su luminar o su photoshop e dirgli fai tu da solo non sto dicendo questo potete anche farlo ma non sto dicendo questo e non sto dicendo che dovete photoshoparvi un pappagallo sulla spalla e poi farvi più magri e mettervi più capelli e togliere la pancia non sto dicendo questo sto parlando di sviluppo digitale che non è la photoshoppata proprio come una volta si post producevano i negativi perché si faceva questa cosa a seconda del risultato finale che si voleva ottenere con la pellicola si andava a utilizzare innanzitutto una pellicola di tipo diverso dopodiché si andava a fare uno sviluppo con degli acidi diversi con dei tempi di posa diversi per lavorare sul contrasto e su tanti sulla saturazione su tanti altri parametri che potevano essere modificati anche dopo lo scatto quindi la post produzione esisteva da sempre anche sulla pellicola io di una cosa del genere sto parlando non sto dicendo che dovete photoshoparvi gli occhi di un altro colore o farvi la coda azzurra o cose del genere niente cose strane di questo tipo quelle si possono fare dopo se proprio volete ma io qui sto parlando semplicemente di puro e semplice sviluppo digitale quindi imparare a tirare fuori i dati che la fotocamera ha immagazzinato perché i dati che la fotocamera ha immagazzinato dallo scatto grezzo non sono pienamente visibili ed è solo quello che sviluppo digitale con un minimo di post produzione che tiriamo fuori il massimo potenziale dal nostro sensore dalla nostra fotocamera in questo senso vi incoraggio a imparare almeno un pochino di post produzione consiglio finale che non può mancare ricordatevi di immagazzinare correttamente le vostre foto in modo da non perderle ricordatevi di avere un archivio chiaro con una gerarchia con delle cartelle in modo da immagazzinare tutto nella maniera più corretta e se volete fare la cosa più bella che potete fare per voi stessi e per le persone che avete fotografato stampatene qualcuna ogni tanto una fotografia stampata vale cento volte il cimitero che sono la maggior parte delle nostre galleri dei nostri rullini fotografici sugli smartphone sono dei cimiteri disabitati dove noi facciamo centomila foto e poi non torniamo nemmeno più a vederle e ce le dimentichiamo lì fino a quando non ci si rompe il telefono e allora le abbiamo perse tutte e ci viene da piangere ma non ci non sappiamo nemmeno perché perché non ci ricordiamo nemmeno cosa c'era in quel rullino abbiamo perso tutto e non ce lo ricordiamo nemmeno mentre una singola foto stampata vale molto di più soprattutto se non la perdiamo bene amici io non mi dilungo troppo spero che questi consigli un po banalotti ma che tutto sommato fa sempre bene sentirsi ripetere vi siano serviti a qualcosa sempre a questo proposito vi ricordo di iscrivervi al canale perché sovente do consigli per amatori professionisti e chi più ne ha più ne metta io personalmente sono professionista ma ascolto a mia volta i consigli di altri amatori e professionisti perché l'esperienza di ciascuno è diversa e sentire le stesse cose da un'altra campana può aiutarci a comprendere meglio processi su cui magari abbiamo sbattuto la testa e non ci siamo ancora ripresi completamente detto questo io vi ricordo anche di seguire i miei shorts verticali perché spesso e volentieri rispondo in quel modo alle vostre domande vi lascio con un altro video che comparirà in sovraimpressione non appena lancerò la sigla un video in cui andiamo a esplorare un po di errori che è meglio evitare quindi oggi abbiamo parlato di cose che è bene fare nel video che sta per comparire parleremo invece di cose che io vi consiglio di evitare signori è stato un piacere come sempre passare un po del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti